Il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana che si celebra il 10 febbraio di ogni anno. Istituita nel 2004, commemora le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata. A Pordenone la cerimonia si è svolta nella Corte dell'Ente Provincia, con l'intervento del presidente e del presidente della provincia di Pordenone Claudio Pedrotti. Quello che noi dobbiamo soprattutto ricordare ai nostri ragazzi è che la ferocia di quanto è accaduto in quegli anni il nostro comportamento nei confronti delle persone che invece dovevano essere accolti deve essere un qualche cosa che non si deve ripetere. Queste elezioni devono essere trasmesse soprattutto alle persone più giovani della nostra società per far sì che questi siano modelli che ci insegnino nel tempo a far sì che l'Europa si confronti sempre con tolleranza e con accoglienze e con rifiuti dei totalitarismi che non debbono più accadere. Quello che è accaduto nel Novecento non può essere riproposto, non può essere pensato nel nuovo secolo che oggi stiamo vivendo. Quindi pur nel momento storico così difficile, queste sono le elezioni che ci dobbiamo portare dietro come patrimonio e riproporre alle generazioni future come memoria attiva e come di fatto paure che non debbano questi fatti ricadere ancora.